La stagione turistica volge al termine e in Calabria c'è già chi prova a fare un bilancio sulle presenze turistiche. Un bilancio che a volte però si riduce ai soli giorni a cavallo di Ferragosto. L'informazione che abbiamo oggi sui flussi turistici in Calabria non è assolutamente generalizzabile, nel senso che ancora non esistono dati ufficiali sulle presenze di extra-regionali e di turisti internazionali nella nostra regione. Sicuramente esistono delle valutazioni puntuali, quindi puntuali territorialmente parlando, che ne so, un'indagine diretta che è stata fatta a Isola Caporizzuto, a Tropea o a Roccella Ionica, ma questo ovviamente non ci consente di dire che cosa sta succedendo oggi in Calabria nella stagione 2019 in termini di flussi turistici. Una stagione turistica che deve essere intesa quantomeno da maggio-giugno fino ad almeno la fine di settembre. Certamente oggi in questo periodo si fanno delle valutazioni come dicevo prima puntuali e il periodo di riferimento è quello che è in flutto intorno a ferragosto, alle settimane delle grandi vacanze di agosto, che ovviamente è un dato distorto, nel senso che è naturale che in quel periodo ci siano flussi turistici rilevanti in tutte le parti della Calabria, ovunque. Quello che noi dovremmo tentare di fare come regione è di ovviamente ragionare in periodi molto più lunghi, che dal mio punto di vista possono tranquillamente essere compresi tra la fine di maggio e la fine di settembre, inizi di ottobre, quando si parla di stagioni estive. Specie per una regione come la Calabria, che è considerata una regione ad alta vocazione turistica. La nostra regione sicuramente, lo diciamo da molto tempo anche come osservatorio di Open Calabria, è una regione che oggi ha un peso in termini turistici sul periodo regionale intorno al 4%, 4,3%, considerando sia l'impatto diretto sia l'impatto indiretto, e potrebbe, date le potenzialità, le vocazioni, triplicare questa quota. Quindi ci sono grandi margini di miglioramento, ma i grandi margini di miglioramento si possono ottenere semplicemente se consideriamo le stagioni molto più lunghe e quindi le analisi, le valutazioni che dovrebbero essere fatte dovrebbero comprendere anche le settimane di giugno, le settimane di luglio e soprattutto anche le settimane di settembre.